E' il 13 gennaio 2012, quando dal porto di Civita Vecchia salva la bellissima nave da crociera, Costa Concordia, di proprietà di Costa Crociere. Una bellissima nave lussuosa, con a bordo 4.229 passeggeri, tra cui 3.216 di passeggeri e 1.013 di membri dell'equipaggio. L'equipaggio, come ogni sera, era al lavoro e tutti i passeggeri si stavano godendo questa meravigliosa nave da crociera, tra balli, canti, cinema, casino, ristoranti, insomma una bellissima serata di festa. Al comando della nave abbiamo Francesco Schettino, che stava dirigendo la nave verso l'ultima tappa della Concordia, quella sera, Savona. La nave salpa dal porto di Civita Vecchia, verso le 19.18, con una velocità di 15.5 nodi. Successivamente la nave assunse poi la rotta 302, alla velocità di 16 nodi, seguendo la rotta prevista per le navi, da Civita Vecchia a Savona. Ma alle 21.04, la nave lasciò l'usuale rotta, assumendo quella a 278, sempre con una velocità di 15.5 nodi, per una manovra di passaggio ravvicinato, nota come inchino, all'isola del Giglio, prevista già dalla partenza. Da quando ha deposto Schettino, da un possessore di una casa sull'isola, Antonello Tiepoli. Giunto nei pressi dell'isola, essendo in rotta di collisione, la nave si sarebbe dovuta dirigere verso nord, per riprendere la normale navigazione. Ma alle 21.36, il primo ufficiale di coperta, Ciro Ambrosio, chiese al timoniere di assumere rotta 290. In seguito, il comandante Schettino salì in plancia, alle 21.34, poco dopo aver avuto una breve telefonata, con un ex comandante in pensione. E alle 21.39 assunse la conduzione della navigazione. Egli ordinò rotta 300 e velocità 16 nodi, e mezzo minuto dopo, rotta 310 e poi 325, in modo da proseguire l'accostata all'isola del Giglio, per il famoso saluto. Alle 21.42 e alle 21.43, ordinò rotta 330 e poi 350, per passare proprio davanti al porto del Giglio, tenendosi così più sotto costa, e possibilmente per emettere dei fischi di saluto. La nave così raggiunse a 450 metri, distante, dagli scogli chiamate scole, che poi si ridusse a 160 metri. Schettino, accorgendosi che era troppo vicino all'isola e fuori dalla rotta prevista, ordinò di accostare con il timone, per 10 a dritta, e dopo 4 secondi, per 20 a dritta. Alle 21.44, ordinò tutta la barra a dritta, e sempre alle 21.44, avendo notato che la poppa rischiava di collidere con gli scogli, se l'accostata a dritta fosse continuata, ordinò barra al centro per interrompere la manovra, quindi di dare timone per 10 e poi vendi a sinistra. Il timoniere non comprese bene l'ordine, e accostò invece a dritta. Alle 21.45, Schettino ordinò tutta la barra a sinistra, ma due secondi più tardi, alla velocità di 14,2 nodi, e compro ora 007, la nave urtò gli scogli, le famose scole, nei pressi dell'isola del Giglio, a 96 metri dalla riva e a 8 metri di profondità. L'impatto provocò l'apertura di una falla lunga circa 36 metri, e l'impatto provocò la brusca interruzione della navigazione, un forte sbandamento, e il conseguente incaglio sugli scogli. La falla aperta sul lato sinistro della nave, lunga 36 metri, mise fuori uso i principali motori elettrici, e i generatori, e anche i generatori al gasolio, causando un blackout, in pochi secondi dopo l'impatto, e privando così la nave di propulsione. In breve tempo, in pochissimo tempo, si sono completamente allagati i compartimenti 4, 5, 6 e 7 del Ponte Zero, e si sono anche sommersi il quadro elettrico principale, i motori elettrici principali, e tutti i generatori a gasolio. Anche le pompe ordinarie sono state sommersi, non risultando così utilizzabili per gli allagamenti. Comunque la nave era stata progettata per mantenersi a galla anche con due compartimenti contigui allagati. Ma a causa dell'estensione del danno, con la forte velocità dell'allagamento, dei compartimenti da 4 a 7, è stata tale da impedire ogni controllo. Dopo l'impatto, mentre in plancia scattavano numerosi allarmi, per le diverse avarie in sorte, è stata ordinata la chiusura delle porte stagne della poppa, che tuttavia erano già chiuse, tranne due, situate in un locale di lavanderia al Ponte B, a prora, non coinvolto nell'allagamento, chiuse però anche esse nel giro di due minuti. Il riscaldamento del generatore diesel d'emergenza ne ha causato anche il suo spegnimento, impedendo così anche l'uso di timoni e pompe, e così pure gli ascensori, rendendo la nave ingovernabile. Nel giro di 5 minuti, tutti gli ufficiali raggiungono i propri posti di servizio, e alle 21.49 il direttore di macchine ha riferito in plancia, su richiesta di schettino, che la nave stava imbarcando una notevole quantità d'acqua. Alle 21.51, sempre il direttore di macchina, ha riferito che il quadro elettrico principale era completamente allagato, e alle 21.58 i comandanti in seconda hanno riportato che l'acqua era giunta al Ponte Zero, e che le pompe e i locali dei generatori diesel non erano funzionanti ma completamente allagati. E contemporaneamente schettino alle 21.58 chiama il capo dell'unità di crisi di Costa Crociere, Roberto Ferrarini, riferendo in breve l'accaduto. Alle 22.02, Costa Congordia è stata condattata dalla Capitaneria di Porto di Civitavecchi, a cui risponde schettino e chiedeva l'invio di un rimorchiatore, poi affermando che nella nave c'era un blackout in corso. Alle 22.06 è avvenuto un altro contatto tra Ferrarini e Schettino, che lo informava sulla perdita di propulsione della nave e sulla mancanza di elementi per prevedere la sommersione della stessa nave. Dopo 27 minuti dall'urto, la Capitaneria di Porto di Livorno si mette a contatto con la Costa Congordia per assicurarsi sullo stato della nave. Dopo che alle 22.06 i carabinieri di Prato avvisati da un parente di un passeggero che gli parlò del cedimento del soffitto del ristorante e l'ordine di mettere i giubbotti salvagende. Quindi i carabinieri di Prato avevano avvisato la Capitaneria di Porto di Livorno. Nel frattempo i passeggeri, allarmati dall'impatto, si erano radunati ai punti di riunione. In attesa di informazioni, alle 22.05 era stato detto ai passeggeri che c'era stato un problema con i generatori elettrici causando il blackout, non rivelando l'apertura della falla e l'allagamento della nave. La Capitaneria di Porto di Livorno aveva chiesto quali problemi ci fossero sulla nave e la nave aveva risposto minimizzando sulla gravità della situazione ammettendo di avere una difficoltà ma che si sarebbe risolta in poco tempo senza menzionare la falla e l'allagamento. Alle 22.20 circa è stato attivato il generatore di emergenza e fu detto ai passeggeri che tutto si era risolto e che potevano tornare alle loro cabine. In seguito Schettino alle 22.21 ha chiesto di nuovo conferma sull'allagamento dei motori principali. Poi alle 22.24 ha richiesto e alle 22.25 finalmente Schettino riferisce alla Capitaneria di Porto di Livorno la falla e l'allagamento chiedendo l'invio di rimorchiatori. 22.40 richiede di nuovo urgentemente l'invio di rimorchiatori e afferma che i passeggeri indossavano tutti il giubbotto salvaggente. In realtà ancora non era stata dichiarata nessuno stato di emergenza. In più non erano neanche state fornite istruzioni non era neanche stato fatto alcun controllo. Alle 22.24 la costa Concordia sbandata a sinistra comincia a inclinarsi. Alle 22.26 di nuovo gli ufficiali di macchina riferiscono all'ufficiale sulla sicurezza Martino Pellegrini che tutta la sala macchina e i locali connessi erano completamente allagati e non era possibile mettere in moto niente nemmeno le pompe. Alle 22.27 Schettino di nuovo in contatto con Ferrarini riferisce che i comportamenti allagati sono tre e che le cose si stavano mettendo male. Alle 22.29 la situazione era diventata insostenibile. L'acqua era giunta agli ascensori di poppa e in continuo aumento passando attraverso una porta di tagliafuoco. I passeggeri intanto stavano cominciando a salire sulle lance di salvataggio di propria iniziativa arrivando anche ad aggredire membri dell'equipaggio che tentavano di impedirlo. Alle 22.31 Schettino dall'ordine di evacuazione al personale che si trovava nelle aree allagate e alle 22.33 finalmente è stato lanciato il segnale d'emergenza generale composto da sette fischi brevi e uno lungo. Alle 22.36 è stato chiesto ai passeggeri tramite un annuncio vocale di riunirsi ai punti di riunione e di eseguire le istruzioni date dai membri dell'equipaggio e di mantenere la calma. Invito ripetuto alle 22.43 aggiungendo di indossare i giubbotti salvagente e spiegando che erano in prossimità dell'isola del Giglio e che le lance si sarebbero dirette verso la costa e alle 22.38 è stato comunicato alla Capitaneria di Porto di Livorno il distress e alle 22.54 dietro esplicita richiesta della Capitaneria di Porto di Livorno e dopo varie sollecitazioni da parte degli ufficiali dell'equipaggio Schettino ha ordinato l'abbandono nave ben 69 minuti dopo l'impatto con gli scogli le lance di dritta sono state sbracciate alle 22.47 già pieni di passeggeri il che ha accenduato lo sbandamento della nave la maino è avvenuta alle 22.50 sotto richiesta dell'ufficiale della sicurezza alle 22.58 il traghetto parte dal porto del Giglio per dare assistenza alla nave nel mentre sono state calate l'ange e zattere cominciando da quelle in poppa dritta ed entrambe le angore e sei minuti dopo la costa Concordia si è incagliata fortemente ed è sbandata sulla dritta alle 22.55 è stato mandato un elicottero da Sarzana mentre da Portoferraio veniva inviata una motovedetta quest'ultima della polizia di stato che si trovava già in mare i passeggeri di Costa Concordia nel mentre erano stati quasi tutti evacuati dai membri dell'equipaggio alle 23.11 Schettino si sente di nuovo con Ferrarini e riferisce lo scaroccio verso acque meno profonde era andato a buon fine e di aver già dato a fondo due angore e che la poppa era appoggiata al fondale basso e che la nave non poteva muoversi dal punto in cui si trovava alle 23.15 la costa Concordia si inclinava lentamente fino a codicarsi sul fianco di dritta anche il generatore di emergenza è saltato lasciando al buio i passeggeri rimasti alle 23.19 il comandante Schettino lascia la plancia e dopodiché abbandona la nave lasciando i passeggeri sulla nave e i membri dell'equipaggio il combito di salvarli alle 00.32 Schettino riferisce alla capitaneria di Porto di Livorno che si trovava su una lancia di dritta per la causa dello sbandamento della nave dicendo che per errore aveva capito che tutti erano già in salvo 00.32 la prima chiamata pubblicata quella tra Schettino e il comandante De Falco della capitaneria di Porto di Livorno che intimava il comandante a risalire sulla nave e Schettino rispondeva mentendo dicendo che stava coordinando i soccorsi da una lata mi dicono che ci sono dei passeggeri a bordo sembra che siano centinaia di persone però le ripeto comandante lei non non mi da stare a dare un dato esatto centinaia di persone sembra allora io non le so dare un dato esatto perché le spiego mentre stavamo facendo l'evacuazione di tutti i passeggeri adesso gli ufficiali che ci siamo tutti quanti riuniti qua dove siete? sulla scialuppa tutti gli ufficiali? sì siamo io no mi scusi ma lei prima era solo col marinaio se gli ufficiali sono riusciti a scendere da lei vuol dire che si potevano ancora muovere infatti e allora perché non tornano a bordo a vedere com'è la situazione e poi ce la riferiscono grazie adesso li mandi a bordo mandi una persona a bordo a coordinare ma io sto coordinando io le sto dando un ordine comandante lei deve mandare qualcuno a bordo siamo noi andando a bordo a coordinare esatto voi dovete andare a bordo a coordinare lo sparco è chiaro? ma noi non possiamo salire più a destra come la nave a destra e il fondo è a portare perché li ha fatti scendere comandante? come stai scendere abbiamo abbandonato la nave e la nave si è infilata e con 100 persone ancora a bordo lei ha abbandonato la nave cazzo? io non ho abbandonato nessuna nave con 100 persone perché la nave si è smandata di posto e siamo stati capruzzati in acqua ne vedremo poi che cosa è successo ok? adesso però mi faccia sapere tutto ciò che accade per ogni cosa ti metta lì sotto lo stascio rupe non ti allontani è chiaro? guardiamo comandante guardiamo e alle 00.42 la costa Concordia era ormai totalmente abbattuta sul lato di dritta con uno sbandamento prossimo ai 90 e il lato di dritta era stato completamente sommerso dopodiché la capitanaria di Porto ricontatta Schettino in cui sempre Schettino diceva che stava coordinando i soccorsi da una lancia insieme ad altri ufficiali ma in realtà alle 00.42 già Schettino si trovava sugli scogli e non era in dentro ad alcun soccorso il comandante Galli ha invitato Schettino a seguirlo fino al porto del Giglio da dove con un gommone o un'imbarcazione sarebbe potuto risalire sulla nave e che lui l'avrebbe aiutato ma ha risposto che preferiva rimanere lì e guardare la sua nave il comandante insisteva perché diceva che c'erano ancora delle persone a bordo e che sarebbe stata opportuna la sua presenza per dirigere meglio le operazioni di soccorso ma ogni sua richiesta è stata sempre più vana e alla fine il comandante e alla fine il comandante Galli se ne ritornò al porto del Giglio per occuparsi delle operazioni di soccorso e Schittino rimase sugli scogli mentre continuavano le operazioni di soccorso con elicotteri navi traghetti e coordinavano le operazioni per far scendere i passeggeri dalla nave e alle 2.30 di notte ancora c'erano 200 passeggeri a bordo e alle 3.50 di notte la moto vedetta della guardia costiera dopo vari tentativi di mettersi in contatto con l'aereo soccorritore riferì che ancora a bordo c'erano 50 60 persone e alle 4.20 di notte erano rimaste 20-30 persone tre membri dell'equipaggio un commissario di bordo il secondo ufficiale di coperta e il medico di bordo riuscirono a salvare tante persone rimaste nelle zone semi allagate del lato sinistro prima di sbarcare dalla nave tra gli ultimi e alle 5.45 del mattino il vice sindaco del comune dell'isola del Giglio salì a bordo della nave e mise in salvo altre 50 persone usando la biscaglina di prora del lato sinistro alle 5.14 e risalito sulla nave portato da una moto vedetta l'ufficiale della sicurezza della nave martino pellegrini che proseguendo le ricerche per trovare naufraghi rimasti sorelitto alle 5.27 trovò un naufrago che mise in salvo ma 50 minuti dopo non fu più possibile continuare le ricerche a causa dello sbandamento della nave e a causa dell'allagamento quindi alle 5.58 il comandante della capitaneria di Porto di Livorno Gregorio De Falco dà l'autorizzazione alle navi mercantili di lasciare la zona terminata la notte tra il 13 gennaio e il 14 i passeggeri in salvo sono 3.190 e i membri dell'equipaggio 1.7 e al recupero in mare di tre corpi un passeggero e due membri dell'equipaggio e hanno avuto così inizio le operazioni di ricerca nella mezzanotte del 14 gennaio viene individuata una coppia di coreani nella cabina 8303 al ponte 8 venendo soccorsa un'ora e mezzo dopo da parte dei pompieri giungendo a terra alle 7.20 del mattino del 15 gennaio quella stessa mattina del 15 gennaio viene individuato un altro superstite il capo commissario di bordo Marico Giambredoni sostenuto di aver aiutato i passeggeri a lasciare la nave e a farle salire sulle lance di salvataggio e di essere sceso al ponte sotto stante per verificare se ci fosse ancora qualcuno e lì è rimasto bloccato sul ponte 3 scivolando e fratturandosi una gamba nei pressi del ristorante l'uomo verso mezzogiorno è stato portato in salvo e con un elicottero fu trasportato d'urgenza all'ospedale ed è stata l'ultima persona ad essere stata trovata viva a 36 ore dal naufragio ma successivamente in esito ai provvedimenti giudiziari il capo commissario di bordo inizialmente acclamato come eroe è stato ritenuto un corresponsabile del naufragio subendo una sospensione di 6 mesi dalle autorità marittime e patteggiando gli stessi una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione poco dopo le 16 del 15 gennaio vengono trovati due corpi in un punto di riunione con addosso i giubbotti salvagende nelle vicinanze del ristorante Milano sul lato di dritta al Ponte 4 venendo quindi recuperati un altro corpo viene recuperato alle 6 del mattino del 16 gennaio in un corridoio del Ponte 2 dovendo essere estratto solo ore più tardi a causa dell'interruzione dei lavori provocata dallo spostamento della nave giorni successivi un gruppo di subacquei della marina militare andò a ispezionare il relitto per trovare gli altri corpi e alle 3 del pomeriggio del 17 gennaio i sommozzatori trovano altri 4 corpi 4 passeggeri 3 uomini e una donna e un altro corpo di un membro dell'equipaggio in un mondo di ritrovo sommerso nella zona poppiera del Ponte 4 nel lato dritta in corrispondenza del vano ascensori di Poppa e sempre in questa zona alle 13 e 30 è stato individuato un altro corpo il corpo di una donna sempre vicino nei pressi del ristorante del Ponte 4 alle 15 e 20 del 22 gennaio viene trovato un altro corpo sempre di una donna con indosso anche lei il giubbotto salvaggente e il 23 gennaio alle 4 del pomeriggio altri due corpi di altre due passeggere e il 24 gennaio viene individuato un altro corpo sempre nel ristorante Milano si tratta di un'altra donna e il 28 gennaio verso mezzogiorno un altro corpo viene individuato questa volta di un membro dell'equipaggio sempre una donna che si trovava in un terrazzino del Ponte 8 e tra la fine di gennaio e per metà febbraio le ricerche si sono dovute fermare sia per le condizioni meteorologiche sia a causa dello svolgimento delle operazioni di svuotamento dei serbatoi a metà febbraio però ricominciano le ricerche dei vari corpi rimasti il 22 febbraio vengono trovati altri 8 corpi tutti a poppa e nel Ponte 4 e sulle scale poppiere tra il Ponte 3 e il Ponte 4 altri 4 corpi due uomini una donna e una bambina 12 metri sotto la superficie venendo recuperati dopo ore e ore di lavoro e dal 12 marzo sono iniziate le operazioni di esplorazione della nave per accedere ai punti inaccessibili e il 22 marzo durante un'esplorazione con il ROV sullo scafo della nave poggiato sul fondale il corpo di altre tre vittime e poco dopo verso le vendi altri due corpi che si tratta di un membro dell'equipaggio e gli altri passeggeri due uomini e due donne e la mattina del 26 marzo sono stati recuperati altri due corpi e quello stesso pomeriggio altri due corpi ancora all'appello mancano altre due salme ma le ricerche si sono dovute interrompere per l'identificazione dei corpi trovati così avrebbe consentito l'identità dei due corpi che mancavano all'appello l'8 ottobre 2013 vengono trovati i resti di un'altra donna nell'agosto 2014 sono stati trovati gli altri resti e l'ultimo passeggero che mancava all'appello è stato trovato nel novembre del 2014 e nel mentre Schettino che fino a fatto Schettino Ciro D'Ambrosio il primo ufficiale e il comandante in seconda sono stati arrestati per omicidio colposo plurimo naufragio e abbandono della nave in pericolo ma il 17 gennaio del 2012 Schettino viene inviato agli arresti domiciliari nella sua casa di Sorrendo il 10 aprile 2012 la Cassazione decide di lasciare Schettino agli arresti domiciliari che sono stati revocati il 5 luglio 2012 con obbligo di dimora sembra Sorrendo a gennaio 2015 la procura chiede 26 anni di carcere per Francesco Schettino e lui il 5 febbraio 2015 si è dichiarato innocente l'11 febbraio 2015 Schettino viene condannato a 16 anni di reclusione 10 per omicidio colposo plurimo e per lesioni colpose 5 per naufragio colposo e 1 per abbandono della nave e sia Schettino che Costa Crociere vengono condannate al risarcimento a 1,5 milioni di euro per il ministero dell'ambiente 1 milione per la presidenza del consiglio dei ministri 500 mila euro per i ministri della difesa e 300 mila euro per il comune del Giglio e numerosi altri risarcimento ai parenti delle vittime il 31 maggio 2016 la condanna a 16 anni di Schettino è stata confermata anche in secondo grado dalla corte d'appello di Firenze ed è stato anche interdetto per 5 anni da tutte le professioni marittime il giudizio penale è stato confermato in via definitiva dalla corte di Cassazione il 12 maggio 2017 e Schettino viene condotto al carcere di Re Bibbia immediatamente dopo la sentenza le operazioni di rimozione cominciano il 29 maggio 2012 il 12 maggio 2015 Costa Concordia arrivò al porto di Genova e lo smantellamento completo della nave ufficialmente finì il 7 luglio 2017 e così si conclude il triste naufragio della Costa Concordia a 100 anni di distanza dal naufragio del Titanic e con questo concludo questo video alla prossima è